E' stato presentato presso la sede dell'Unione Montana marca di Camerino il progetto di fattibilità per la riqualificazione di Borgo Ravaio nel comune di Fiastra un insieme di edifici rurali di proprietà dell'Unione Montana che diverranno struttura ricettiva di qualità funzionale a tutto il territorio dei Sibillini Parliamo di un investimento complessivo di 4 milioni e mezzi di euro reperiti tramite il fondo PNRR Area Sisma per dare nuova vita a questo complesso edilizio trasformandolo in un'oasi di relax e benessere Borgo Ravaio si trova all'inizio del percorso delle lame rosse con una straordinaria vista sul lago di Fiastra Alla conferenza stampa di presentazione del progetto non è potuto intervenire il sindaco Sauro Scaficchia il sindaco si è collegato però telefonicamente e ha ringraziato il presidente dell'Unione Montana marca di Camerino Alessandro Gentilucci il quale ha fortemente voluto il recupero di questo borgo Diciamo che essere riusciti a portare a casa questo straordinario finanziamento di 4,5 milioni di euro per dare completezza a un progetto partito a seguito del sisma del 1997 rappresenta un traguardo straordinario per questa Unione Montana un traguardo straordinario per la governance ecco io esprimo soddisfazione e orgoglio per essere riusciti oggi a garantire un futuro a una struttura ma soprattutto per essere riusciti a garantire quell'indirizzo politico che va verso lo sviluppo turistico dei nostri territori attraverso la capacità di avere qualità nella ricostruzione attraverso dei servizi anche di lusso che il nostro territorio merita dobbiamo cercare di elevare lo standard di coloro che arrivano nei nostri territori per quel surplus di reddito e di antropizzazione che andiamo cercando ormai da troppo tempo ecco la ricostruzione che aveva segnato il passo adesso con questa nuova ordinanza speriamo possa riuscire a rigarantire quella straordinaria partenza che si era evidenziata già nel 2021 senza queste strutture senza la capacità di valorizzare i nostri territori sarebbe semplicemente un comera e domera oggi noi abbiamo garantito in questo luogo in questo straordinario panorama scenico a picco sul lago di Fiastra all'inizio del percorso delle lame rosse in una struttura totalmente pubblica sotto la freazione di Fiegni l'opportunità a coloro che saranno i fruitori turisti del nostro territorio di poter assaporare non solo le bellezze paesaggistiche ma anche il contatto con la natura con l'acqua con i monti sibillini per quello che deve diventare un centro Italia quindi un punto di riferimento non solo della regione Marche bensì del centro Italia ecco da presidente dell'Unione Montana marca di Camerino esprimo gratitudine a tutti i tecnici che si sono interfacciati a tutti i sindaci che fanno parte di questa nostra unione che unanimemente abbiamo deciso di indicare le linee guida per questa progettualità vorrei ringraziare il sindaco di Fiastra che già da presidente dell'Unione Montana aveva cercato di portare avanti questa progettualità è una dedica a Luigi Gentilucci che aveva iniziato questo progetto dopo il sisma del 97 e oggi può vedere pieno compimento momento importante l'hai detto è importantissimo noi al complesso di Cavaglio ci abbiamo sempre tenuto negli anni anche di tutta l'amministrazione precedenti siamo stati sempre insieme anche col sindaco che ringrazio oggi non è potuto stare presente ma si è impegnato molto per questa riuscita il recupero di Borgo Ravaglio è stato sempre un impegno importante per Fiastra perché Fiastra oggi cosa può fare? deve puntare per forza sul turismo non ha più altre ha cambiato l'economia il lago ha cambiato l'economia non ci sono altre possibilità è il turismo Fiastra è il turismo e recuperare Borgo Ravaglio completa perché sta proprio su un posto particolare come dicevo Borgo Ravaglio sta nel parcheggio della partenza per le lame rosse e le lame rosse è un punto di riferimento non solo ormai per Fiastra ma per il parco del parco di Sibillini ma per l'intera regione quindi Borgo Ravaglio sta là ed è importante veramente riuscire a farlo funzionare intanto si recupera anche soldi spesi in passato perché in 1997 è stato fatto il recupero della struttura oggi andare a completare mancherà solo da quello che ho capito sul progetto mancherà solo dopo gli arredi però con i bandi facendo partecipare i privati un conto è andare a mettere gli arredi e andare avanti un conto trovarsi una struttura in quel modo noi come amministrazione abbiamo sempre provato anche a portare i privati per cercare un attimino di ma si sono andate sempre via un po' scoraggiati perché era tanto da investire quindi questa qui è stata veramente una fortuna adesso io non so come dirlo ma è stata una fortuna brava il presidente della Unione della Montana brava il sindaco Scarpichi che si sono impegnati veramente per entrare dentro a questo finanziamento il progetto realizzato da Archistudio è stato illustrato dagli architetti Enrico Frezzi e Andrea Pierigè e prevede la riqualificazione di quattro fabbricati già oggetto di precedente intervento di ristrutturazione a seguito del sisma del 97 i fabbricati potranno contenere fino a 45 posti letto con servizi benessere sia singoli che comuni e un'attività di ristorazione il tutto realizzato secondo le più innovative soluzioni per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili approvato il progetto e appaltata la gara all'iter prevede che i lavori si concluderanno entro il 2024 ma è un lavoro interessante molto stimolante per noi architetti perché recuperare vecchi borghi è qualcosa di poetico l'ho ritenuto poetico veramente non è la prima esperienza per noi perché già abbiamo realizzato altri resort di questo tipo ma questo è in modo particolare forse perché ambientato in un territorio così particolare e bello ci ha coinvolti e trascinati in questo recupero e dando una destinazione che in origine era quella residenziale rurale con la tipica casa diciamo del sotto organizzata come stalle magazzini eccetera e sopra le abitazioni oggi le abbiamo dato una nuova destinazione una nuova funzione quella ricettiva turistica perché il territorio lo merita lo chiede c'è molta carenza e siccome stanno rivalutando la nostra montagna abbiamo subito pensato che la destinazione più immediata era quella ricettiva l'abbiamo trasformato in un resort di livello medio alto organizzando un certo numero di camere non forzando le superfici ma anzi cercando di mantenerle più fruibili possibile e dotate queste camere di servizi e alcune anche con benessere esclusivo una parte del borgo è stato utilizzato come centro benessere sia interno con delle parti esterne come una piscina e altri accessori per il resto l'edificio più grande ha ospitato anche una zona ristorante non grandissimi numeri ma fino a circa 40 persone con una possibilità di espansione esterna nel periodo estivo di altre 20-25 persone è stato curato in maniera molto dettagliata anche l'esterno cercando di mantenerlo più naturale possibile non facendo opere invasive ma anzi i percorsi debbono essere l'abbiamo pensati come percorsi naturali alcuni devono essere trattati con delle pietre i dislivelli con dei piccoli muri di contenimento anche questi con pietra naturale per il resto che devo dire esternamente gli edifici mantengono le caratteristiche originarie di muratura faccia vista con delle stuccature a base di calce infissi tutti previsti in legno naturalmente opere di inferro e rame e per il resto la bellezza del territorio ha fatto sì che noi più di questa non potremmo dare ci ha pensato il nostro signore a